ciao da luci oggi andremo a fare insieme con la tecnica nuking il mio scialle coccola l'avevo promesso tutte le amiche che hanno difficoltà ad usare i ferri avevo appunto promesso che ve l'avrei fatto realizzare con la tecnica nuking che non è altro che una tecnica che permette di riprodurre i punti dei ferri ma fatti con l'uncinetto quindi andiamo subito a vedere come realizzare il nostro scialle allora per questa tecnica ci servirà un uncinetto o un tunisino con cavo in questo caso io ce l'avevo senza ho tolto il fermo finale e ho collegato un cavetto tramite ecco vedete qua dello scotch normalissimo ho usato un semplice filato per borse e il mio uncinetto tunisino che è lungo se no potete usare un uncinetto normalissimo quindi quelli con la dimensione normale quindi e fare la stessa cosa oppure ci sono gli uncinetti da nuking che non sono altro che uncinetti di dimensioni normali quindi come un uncinetto normale della stessa lunghezza ma che in fondo hanno una cruna per poter infilare un filo o cavo come in questo caso benissimo procediamo con vedete fare il nostro cappietto lasciando sempre la codina un po più lunga per poterla nascondere più agevolmente andiamo a quindi a fare il nostro cappietto sull'uncinetto ed andiamo a fare altri quindi andiamo a fare quattro catenelle una due tre e quattro catenelle ora entriamo nella penultima dall'uncinetto catturiamo il filo ne usciamo e lasciamo l'occhiello sull'uncinetto di nuovo entriamo nella prossima catenella catturiamo il filo e lasciamo l'occhiello sull'uncinetto prossimo prossima catenella entriamo catturiamo il filo e lasciamo l'occhiello sull'uncinetto ci ritroviamo con quattro occhielli sul nostro uncinetto ora facciamo scorrere il nostro lavoro sul cavo in questo modo voltiamo così e ci ritroviamo sul re sul retro del lavoro quindi sul rovescio il nostro filo di lavorazione dovrà rimanere sul davanti tiriamo bene il cavo per poter muoverci bene il rovescio si lavora in questo modo entriamo in questo modo come quando lavoriamo i ferri gettiamo il filo e facciamo passare il filo gettato attraverso l'occhiello che avevamo nel quale eravamo penetrati di nuovo entriamo in questo modo gettiamo il filo quindi da sotto a sopra facciamo passare attraverso l'occhiello di nuovo si sono ingarbugliati questi due li sciogliamo ecco qua entriamo sempre da davanti gettiamo il filo e passiamo attraverso l'occhiello di nuovo passiamo da davanti gettiamo il filo e lo facciamo passare attraverso l'occhiello abbiamo di nuovo comunque quattro occhielli vedete che è la lavorazione rovescio ora teniamo in questo modo sfiliamo il nostro cavo perché non ci serve più abbiamo di nuovo tutto il lavoro sull'uncinetto e facciamo riscorrere di nuovo tutto il lavoro sul cavo e voltiamo quindi ora andremo a fare il dritto il filo deve rimanere dietro col dritto esattamente dov'è e facciamo in questo modo io lo metto proprio come quando lavora l'uncinetto entriamo in questo modo quindi da davanti a dietro vedete così da davanti a dietro passando sotto al cavo catturiamo ed usciamo di nuovo dietro catturiamo ed usciamo andiamo dietro catturiamo e usciamo andiamo dietro catturiamo e usciamo così tutti e quattro vedete che sta venendo la maglia rasata abbiamo tutti e quattro sfiliamo il cavo e riportiamo tutto sul cavetto di lavorazione facciamo ancora un giro a rovescio vedete che ci troviamo il filo già dal lato giusto impugniamo in questo modo quindi entriamo così gettiamo il filo e tiriamo fuori portiamo il filo avanti che nel frattempo potrebbe essersi spostato dietro entriamo gettiamo il filo e passiamo attraverso l'occhiello di nuovo filo avanti entriamo nell'asolina dietro così di nuovo filo avanti gettiamo e usciamo e abbiamo fatto il secondo giro di rovescio togliamo il cavo e riportiamo tutto ecco qua in questo modo andiamo a fare il primo aumento allora filo dietro entriamo nel primo entriamo sempre così a ritorto e usciamo e lavoriamo la prima maglia la seconda la lavoriamo in questo modo entriamo nella seconda catturiamo usciamo rientriamo nella seconda ma nel giro sotto guardate qui nel giro sotto proprio in quel modo e catturiamo il filo e lo portiamo su di nuovo dietro di nuovo dietro lavoriamo le altre normalmente e abbiamo creato il nostro aumento usciamo rimettiamo tutto sul cavo e il rovescio lo andiamo a lavorare normalmente perché noi gli aumenti li faremo solo sul dritto quindi entriamo nel primo occhiello a rovescio ovviamente gettiamo e usciamo secondo che era l'aumento gettiamo ed usciamo il terzo gettiamo ed usciamo il quarto gettiamo ed usciamo se avete paura di perderli tenete pure gli altri così il quinto perché abbiamo fatto l'aumento quindi non sono più 4 ma sono 5 gettiamo e usciamo ecco qui che abbiamo rifatto il giro di rovescio sfiliamo il cavo riportiamo tutto sul cavo in questo modo vedete che stiamo allargando questo l'ho lavorato un po mollino ma non importa tanto questo è un esempio andiamo a rifare l'aumento perché ogni giro dovremo fare l'aumento quindi il primo lo lavoriamo normalmente il secondo lo lavoriamo normalmente entriamo nella catenella sotto il secondo e tiriamo su il filo e gli altri le lavoriamo tutti normalmente in questo modo così così lavorati tutti normalmente sfiliamo il cavo così riportiamo tutto sul cavo e voltiamo il lavoro e lavoriamo normalmente il nostro rovescio quindi di nuovo una dove il filo se si stringe piccolo trucchetto guardate tirate il cavo e si apre la maglia poi ritirate 3 questi si sono accavallate le sciogliamo tiriamo un po il cavo in alto vedete che si allargano 4 5 6 vedete che stiamo allargando sfilate e di nuovo voltiamo andiamo a fare il prossimo aumento vedete che stiamo allargando sta diventando triangolino allora vi faccio vedere il prossimo aumento vi faccio vedere il rovescio e poi vi faccio vedere la diminuzione allora la prima la lavoriamo normalmente la seconda prima la lavoriamo normalmente dopo entriamo nella catenella sotto ne usciamo con un filo nuovo con un nuovo occhiello e andiamo a lavorare le altre tutte normalmente ecco qua in questo modo ecco qui sfidiamo il cavo riportiamo tutto sul cavo e andiamo a fare il nostro rovescio quindi filo davanti mi raccomando andiamo a fare il nostro rovescio quindi gettiamo e usciamo filo avanti gettiamo e usciamo filo avanti gettiamo e usciamo filo avanti gettiamo e usciamo prossimo gettiamo e usciamo gettiamo e usciamo vedete come veloce e facile veloce e facilissimo gettiamo e usciamo e abbiamo fatto il nostro rovescio sfidiamo il tutto giriamo e riportiamo sull'uncinetto ecco qua quindi ora faccio un pezzettino giusto per andare avanti e farvi vedere come insomma farvi vedere un pezzetto più grosso dopodiché ci ritroviamo e facciamo insieme le diminuzioni il nostro rovescio di nuovo portiamo tutto sul cavo voltiamo il lavoro e andiamo a fare la prossima diminuzione a dritto quindi la prima la lavoriamo normalmente in questo modo la seconda e la terza le prendiamo insieme e vedete le chiudiamo insieme dopodiché andiamo a finire il giro proprio in questo modo e dovete continuare così fino di nuovo ad avere quattro maglie sull'uncinetto quindi dovete di nuovo avere le quattro maglie di partenza vedete che sta facendo la punta in questo modo ora io proseguo fino ad averne quattro così vi faccio vedere come si chiude poi il lavoro eccoci quindi arrivati abbiamo cinque occhielli quindi andiamo a fare insieme l'ultima diminuzione l'ultimo rovescio e poi chiudiamo insieme allora quindi andiamo a fare la prima lavorata dritto normalmente la seconda e la terza le prendiamo insieme e le chiudiamo insieme e di nuovo le altre maglie restanti e rimaniamo con quattro occhielli sull'uncinetto quindi andiamo a sfilare andiamo a portare tutto di nuovo sul cavo voltiamo bene il lavoro e andiamo a fare l'ultimo giro a rovescio quindi lavorandole tutte una due tre e quattro sfidiamo il cavo riportiamo tutto sul cavo l'uncinetto al cavo ecco qua in questo modo ed ora le possiamo chiudere quindi entro nella prima la lavoro entro nella seconda la lavoro e la porto attraverso la prima quindi come se facessi una maglia bassissima quindi entro nella prossima tiro fuori e poi di nuovo così all'interno di quella restante di nuovo catturo esco e maglia bassissima all'interno dell'occhiello rimasto quindi faccio un occhiello di sicurezza una catenella di sicurezza scusate sfilo il cavo vediamo da che parte lo devo sfilare ecco qua e ho chiuso il nostro lavoro ora questo è un campioncino rimane piccolo 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 però guardate vedete abbiamo la nostra punta tenete sempre conto che il lavoro è piccolino quindi risulta un po' bruttino ma come il coccola sta venendo a punta vedete come è lavorato bene sembra lavorato ai ferri anche se noi abbiamo utilizzato l'uncinetto per le rifiniture come nel coccola ovviamente andiamo a fare il nostro giro di maglia bassa adesso ve lo faccio vedere comunque insieme ma è un semplicissimo giro di maglia bassa con l'angolo sulla punta ora facciamo insieme questo uncinetto risulta un po' scomodo per questa lavorazione comunque entriamo in ogni catenella tiriamo dietro i fili magari così li possiamo anche incastrare ecco qua faccio direttamente una maglia bassa tanto sto iniziando quindi ne faccio una entro nella prossima catenella quindi sapete ne avete 4 qua entro nella prossima e un'altra maglia bassa entro nella successiva un'altra maglia bassa in quella dopo una maglia bassa dopodiché sto girando quindi entrerò in tutte le catenelle qui sotto quindi maglia bassa maglia bassa in ognuna a lato di ogni maglia lavorata faremo una maglia bassa in questo modo così passiamo sotto a tutta la catena mi raccomando prendiamo tutto l'occhiello e non solo mezzo in questo modo così scusate con questo uncinetto risulta tutto molto più difficile perché è lungo e io di solito ho un'impugnatura diversa quindi arriviamo fino all'angolo adesso qua lo sto smagliando tutto ma volevo solo farvi vedere come veniva così arrivati sulla punta che è questa entriamo e facciamo una due maglie basse due catenelle e due maglie basse così ci creiamo la punta e ricominciamo tutte le maglie seguenti una maglia bassa per ogni maglia vedete ecco qua vedete che viene bene la punta viene ben rifinito adesso ve lo rifaccio vedere sul coccola originale così vedete anche la rifinitura ecco qua la punta vedete ho semplicemente fatto la punta ben definita ecco viene lo stesso il medesimo lavoro vedete bello sembra fatto i ferri ma in realtà l'abbiamo lavorato con l'uncinetto io vi ho tirato un filo al coccola ecco qua rimettiamolo apposta allora io spero di essere stata chiara in questo tutorial come mi avete detto che sono stata chiara nel coccola originale se avete dubbi perplessità se avete delle domande potete trovarmi tranquillamente sul gruppo facebook creando con luci e franci io vi mando un grosso bacione vi saluto vi do appuntamento al prossimo tutorial se vi è piaciuto questo mettete mi piace se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche di tutti i miei video un bacione grande ciao ciao da luci